Se Joseph the Gamer cade, il video finisce su Fall Guys Ultimate Knockout Bella ragazzi, l'avete letto dal titolo, stavolta non siamo su Fortnite ma siamo su Fall Guys Ultimate Knockout E tra l'altro con Joseph the Gamer ragazzi, come potete vedere schermo Oh yeah, allora valo va yeah Ho visto che l'ultimo video con Joseph vi è piaciuto, quindi il tizio con le 7 è lui Il tizio con un animale in testa sono io, direi di portarci subito nel game E si vola Tra l'altro ragazzi stiamo seriamente volando, volevo giusto dirvi una cosa Per assicurarvi che Joseph the Gamer sarà sincero, sto facendo registrare il gameplay anche a lui E infatti No, non ti fidi No, ma assolutamente Ma mai nella vita Tanto è vero che per appunto andare a distinguere quali dei due i gameplay starete vedendo In alto a destra o a sinistra scriverò gameplay di Joseph o di Fortu Così appunto riuscirete a distinguerli Ok ragazzi, quindi vediamo qua se Joseph ci fa il piacere di non cadere Anche se secondo me questo video durerà un minuto Joseph non vuole farci monetizzare ragazzi, colpa sua Io sono sempre in primo Ma hanno fatto parte indietro Ah, mezzo ti hanno fatto cadere Dicevo Joseph, perché miseria? Oh, manca il tempo di partire Allora, secondo me qua ce la puoi fare a non cadere secondo me Perché tranquilla la cosa Mi sono accappottato cinque volte Ma come? Cerco di dirti dove ti possono far cadere così ti avviso Per ora non ancora Vai Ma sono tra gli ultimi Ma non va niente meglio così ti avviso quando vuoi cadere e quando no Mamma mia Allora praticamente sul salto quando stai per scendere Lì se prendi male puoi cadere insomma Vai, vediamo se Joseph ce la fa Ah, tutto giallo, sì, sì Io non lo vedo Ma dove sei? Ma non sono caduto, fortuna Ma come sei caduto? Ti stavo aspettando io No, no, non sono caduto Non sono caduto Ti sono qualificato Ah, ma ti sei qualificato? Oh, avvisami Io stavo per essere squalificato Stavo aspettando te Ok, vabbè Prima tutto a posto Andato Ho sblocato pure il trofeo Ma pure io One small trip Dov'è Joseph? Io sto là Scusa, non hai capito Ma dobbiamo andare avanti Dobbiamo continuare Ma tu no Quindi sei qualificato? Sì, certo mi sono qualificato Ma io non ti vedo Non ti rio trovato Magari ti avrò cercato in editing Non è vero Ah, no No, vabbè Qual è questo? Ragazzi, ma questo Joseph come lo fa? No, vabbè Ragazzi, qua Joseph muore Vabbè No, vabbè Ragazzi, potete chiudere già il video Chiudete il video a posto È stato un piacere Guardatelo fino alla fine Perché vi prometto Che cadrò Ma nessuno ci crede Cioè, tutti ci crediamo Ma che devo fare qua? Ma qua Eh Ma che stanno a fare Fra, ma questo sembrano quelli belli Di Super Mario Sunshine infami Che dovevi riprovare minimo otto volte Ja, ma veramente Mamma mia Ma questa cosa Guardate che io a breve Io cado a breve Cioè, io perdo Tu devi sopravvivere Io sto andando benissimo Peppe, tu devi sopravvivere Perché tanto il video dipende da te Ah Mannaggia Sì, sì Io sto sopravvivendo No, fra Io sto andando nel panico Io non capisco Quando sia grave Se cado E io non voglio cadere Fra, voglio vingere Ah Mamma mia Ho perso io Perdo Sì Ma voglio Joseph Ma forse sto facendo comunque Un game incredibile Ti vedo, ti vedo Ti vedo Ma tu ti sei messo in una zona Dove non c'è nessuno Non vale Ma sei un drago bianco Occhi blu interdimensionale Ma tu sei un decinale Ma non ti dì Ma no Guarda, guarda, guarda Non cadrò mai Guardami Non cadrò mai Vedo, vedo che non cadrai mai Guarda, guardami Che pro player Che pro player Attenzione Guarda, guarda, guarda Da l'una all'altra Attenzione Mamma mia Guarda che trick che ti faccio Mamma mia Attenzione No E' caduto Regà No Ma mi sono tuffato Sto scemo No